Questa mattina i carabinieri del NAS di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare messa dalla GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 11 indagati. Nel dettaglio l'operazione ha interessato 4 dirigenti medici, 3 infermieri professionali, 3 operatrici addette all'assistenza dei pazienti ed un agente tecnico, dipendenti dell'ASLA di Salerno in servizio presso l'Unità Operativa Medicina del Dolore Giardino dei Girasoli e presso l'Unità Operativa di Medicina Legale del distretto 64 di Eboli. Gli indagati sono accusati di omicidio, truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, peculato, falso e cessione di farmaci ad effetto stupefacente. L'attività investigativa ha consentito di accertare la responsabilità di un dirigente medico per il reato di omicidio, in quanto, mediante la somministrazione di una dose letale di un medicinale sottratto illecitamente alla struttura sanitaria, avrebbe causato il decesso di un giovane affetto da una gravissima ed irreversibile patologia. Gli altri indagati, invece, avevano un totale rapporto di infedeltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, non eseguendo le visite domiciliari ai malati terminali, anche se ne curavano la certificazione, attestando falsamente la presenza nella sede di servizio. Uno degli 11 indagati è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre nei confronti degli altri è stata disposta la sospensione dalla professione per 12 mesi. A seguito di questa denuncia dell'Ast, noi abbiamo iniziato degli approfondimenti. Già i primi approfondimenti lasciavano trasparire che la gestione professionale di questi dipendenti era una gestione totalmente illecita e non rispondente ai doveri di diligenza che sono proprio dei pubblici funzionari. La percezione poi di questo omicidio è stata una chicca che non era ricercata come progetto investigativo dalla procura, ma su cui abbiamo avuto un'ottima intuizione e gli approfondimenti tecnici su questa intuizione hanno confermato quello che emergeva dalle conversazioni telefoniche intercettate. Io diciamo l'unico rammarico è aver determinato uno argomento nei confronti dei familiari di questo ragazzo perché mentre piangevano questo ragazzo per una morte naturale, pian piano hanno razionalizzato che non si trattava di una morte naturale, ma di una morte indotta, quindi potete benissimo immaginare che trauma hanno subito. Nel caso che abbiamo accertato noi, un giovane battipaiese affetto da un cancro in fase terminale, ricoverato presso un ospedale fiorentino, aveva espresso il desiderio ai genitori di trascorrere gli ultimi tempi che gli rimanevano presso i genitori e con gli amici e aveva anche espresso il desiderio che nel momento in cui questo tumore lo avrebbe fatto soffrire di poter fruire delle cure palliative. Quindi i genitori presero contatti con il medico indagato per omicidio chiedendogli di potergli poi somministrare all'occorrenza queste terapie particolari. In realtà risulta da telefonate anche coeve alla stessa circostanza che il medico ha iniettato un farmaco, il midazolam, in una dose eccessiva rispetto a quello che era previsto anche dalla letteratura scientifica causando così deliberatamente la morte del giovane. In effetti la sua azione ha accelerato la morte. Grave è il fatto che ancora una volta in una struttura sanitaria pubblica si registra il furto di farmaci, peculato in questo caso, di farmaci che poi viene utilizzato per attività private di medici e di infermieri. Sì, in realtà qua abbiamo un elemento di prova inconfutabile perché nel corso delle attività investigative abbiamo scelto strategicamente di concerto con il procuratore e con il sostituto procuratore dottoressa Guarino di effettuare delle perquisizioni. Le perquisizioni effettuate a casa di tutti il personale indagato diede esito positivo perché trovammo presidi ospedalieri e farmaci in carico alla stessa struttura. Sì, in realtà riuscivano ad approvvigionarsi perché non c'erano i controlli previsti quindi ciascuno poteva andare e prendere i farmaci che volevano cosa che poi realmente è accaduto. Come avete sentito in conferenza stampa purtroppo queste cure legislativamente previste così come ha detto il dottor Cannavale non venivano completamente date ed è più spiacevole perché sono persone che hanno forse più bisogno di tutti di queste cure, stanno per abbandonare la vita terrena e quindi gli deve essere garantito quello che è previsto. Avete visto che al riscontro di queste assenze c'erano dei falsi incredibili a volte anche le firme dei familiari, dei pazienti che ovviamente non potevano firmare erano falsificate e non solo questo ma il falso era un po' dovunque c'erano anche dei tirocini attestati mai effettuati da persone che dovevano essere lì.